Abbiamo giocato bene, abbiamo vinto facile, però invece del secondo e dopo abbiamo faticato tanto perché, come hai detto tu anche dell'altra squadra, sono giocatori che giocano veramente in alto livello pallavolo, però siamo contenti che fino alla fine siamo riusciti di uscire da queste partite con tre punti puliti.